Siamo vicini allo stacco. Andrea Baverezi con Rosa Chiara sta venendo via immediatamente Radio Wise che sopravanza Riboc Allè e si porta su Rochelle. 16.4, 31.3 per i primi 400 metri con Rochelle che è affiancata da Radio Wise, i due seguiti da Rosa Chiara sulla curva. Poi ancora Riboc Allè, rimessi Ringoio RSM e Robi Alca in fondo al gruppo Rondinella Clà. 15.6 per i 400 ai 600 con Rochelle che affronta il passaggio in 14.6, 1.1.4 per i primi 8. La pressione aumenta da parte di Radio Wise, prova a arginarlo per il momento Rochelle. Sposta anche Riboc Allè a richiesta Rosa Chiara. Siamo sulla retta opposta alle tribune con il chilometro che se ne va sul piede l'1.17 qualche spicciolo. con Radio Wise che è già preponderante su una richiesta a Rochelle. Federico Esposito mette quasi tutta la figura davanti. Numero 5, Rondinella Clà, squalificato. Curva e Radio Wise per adesso si accontenta su Rochelle che va in difficoltà e sbaglia. Radio Wise affronta la curva al comando. Numero 4, Rochelle, squalificato. Ancora Riboc Allè, in bocco della retta. Numero 3, Ringoio RSM, squalificato. Radio Wise che affronta comodamente la retta d'arrivo su Rosa Chiara e Roby Alca, rimesso dall'errore. Radio Wise vince come vuole, con grande superiorità. Chiude in 14.9 la retta d'arrivo, 1.15.2. Il tempo al chilometro per lo stupendo Radio Wise e Federico Esposito. Il training di Eric Bond, i colori della scuderia Incolings di Diego Romeo che vanno a siglare questo premio Terme Leopoldine con una buonissima prova di Rosa Chiara e anche di Roby Alca, rimesso dopo un errore in partenza. Vince Radio Wise e Federico Esposito per il training di Eric Bond. La quota al totalizzatore di Radio Wise è di 1.73.